Eschile Gu, allora è stato importante vincere, non era facile contro Broni, una squadra che vi ha dato fastidio dall'inizio alla fine? Sì, è una squadra molto forte, con giocatrici molto importanti, c'è da dire che sono giocatrici quasi tutte della nazionale, fanno parte della nazionale, ma noi ovviamente avendo una squadra molto solida e compatta siamo riusciti a tenere botta. È stata una partita che è andata a strappi, ci sono stati momenti in cui meglio voi, altre in cui loro sono rientrate, tra l'altro sono andate anche in vantaggio verso la fine, insomma si restate bravi a mantenere la lucidità. Sì, sì, guarda, in questi momenti lasci un attimo di distrazione, un attimo di confusione, di panico e qui uno si lavora molto, cioè ti massacrano, però noi ovviamente siamo riusciti a tenere botta, sono contentissima e le mie compagne. Senti, come ti stai trovando a Campobasso? Questo è il tuo primo anno, Serie A1, insomma una categoria importante, non è facile, devi trovare lo spazio e ritagliartelo. Guarda, essendo che sono tornata da tre anni di un progetto molto importante della Federazione Roma e venire qui a Campobasso per me è stato bellissimo, cioè nel senso mi piace perché è simile allo stesso progetto che ho fatto lì a Roma, quindi sono sempre controllata, seguita da tutti gli allenatori, c'è uno staff super come ho avuto lo staff super a Roma e faccio allenamenti individuali con determinati coach, con Mimmo, con Di Meglio, con Rosario, quindi qui si lavora molto intensamente, sono contentissima. Ovviamente è difficile, essendo che sono under, a rientrare dopo un infortunio di un anno direttamente in A1, però grazie a questo staff meraviglioso sono riuscita a tenere botta pure io. Ultima cosa, hai parlato di infortuni, certo è che quest'anno questa squadra mi sembra molto molto sfortunata. Guarda, sfortunata da una parte, fortunata dall'altra, cioè nel senso che nonostante ci fossero questi infortuni noi siamo riuscite a non mollare ad ogni minima piccolezza e a giocare più di gruppo e sono contenta. Spero, guarda, spero che tornino presto voi, Tai Lischians.